ciao bella gente e benvenuti in mio canale oggi sono andata a fare un giretto a primarche per farvi vedere tutti i sconti che ci sono vi lascio al video dentro guarda che belli questi maglioni a 6 euro provo questo qua della tuta guarda che carino che è questo a 8 euro bello questo colore qua 7 euro e questo 5 guarda questo maglione qua molto carino ora a 6 euro i pantaloni sportivi sono scontati a 6 euro tutta la roba sportiva guarda che carini che questi guarda che carini a 6 euro lo sai con i leggins sportivi sono neri a 6 euro io l'ho comprato sono veramente buonissimi a 3 euro dei leggins un po' delle felpe varie colori grigio rosso azzurri tutto a 6 euro sì guarda che carini a 6 euro la scuola sportivi ha 12 guarda ci sono le magliette questi magliette qua a 4 euro a questi maglietti qua a 2 euro a due euro, due euro ci sono questi, qua questi sono a due euro, ci sono vari colori questi sono a 3,50 euro, ci sono troppi, 3,50 euro questi vestiti così, a 13 euro questo qua mi piace tantissimo a 16 euro a 30 euro carina a 30 euro e questi qua sono a 7 questi qua sono a 6 questa qua bella inguttita a 25 carini poi ci sono gli a 4,50 euro ci sono questi qua sportivi 10 euro 2 c'è il cappatoi a 13 euro ci sono una marea ci sono le pigiame a 8 questi belli imbutiti ci sono questi qua più sciccosi cada uno sul prezzo 10 solitudine a 2-3 euro a 2-3 euro ovviamente mi piace questa io ne avevo comprato ho a casa questo e grigia 10 euro 10 euro a me ne comprerò o questa o questa o questa qua io per portarcare a fare la passeggiata belli caldi ovviamente che a me queste cose non piacciono ma lieti 10 euro Grazie a tutti. 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 Eccomi. Allora, ieri sono andata a Primark, però era troppo tardi per fare il video, per farvi vedere le cose che ho acquistato. Questa qua è l'ho speso tanto perché il budget ce l'avevo un po' limitato. Ho preso questi qua, ho preso questi qua, li ho pagati 7 euro, questi io li ho presi per portare il cane a fare la passeggiata al mattino e alla sera perché fa fresco. Ho preso questa felpa, questo qua l'ho preso da druni, ho preso questi reggiseni, dopo ve lo faccio vedere. costano 12 euro, sono 3, con 3 colori diversi, mi piacciono perché hanno la cintura sotto, comunque li provo dopo, vi faccio sapere se mi piacciono o no. Maglietta per lavorare, semplicissima maglietta a 2 euro, quindi ho preso questo quadro che mi piace tantissimo, molto bello, a 2 euro. magliancino, questo colore che mi piace tantissimo, anche questo a 8 euro, calze per stare a casa, a 2 euro 50 sono due. leggings che avevo già preso un tempo fa, che veramente sono ottimi, ottimi e hanno il costo di 3 euro, davvero sono le più economiche che ci sono nel mercato. scusate che sembra con la faccia arrabbiata ma c'è il sole che c'è, sole, quel poco di sole che c'è oggi e comunque come vi ho detto io questo qua l'avevo già comprato, mi si è boccato qua perché non so se è il gatto che mi ha tirato o cali e si è fatto il bocchino qua e io li uso tantissimo. ho preso maschere, maschere per il viso, maschere, maschere, mi ho presi questa qua all'avocado, ho preso questa alla papaya, ho preso questa qua, un smoothie con gli acinamidi per i brufoli e ho preso questa qua e il pezzo forte, ho preso una bella pigiamina rosa per me, mi piace tantissimo e basta. molto carino ho preso una M e prima che fosse grande nel senso una S e come vale una XS, una M o come vale una S perché è un po' questo è largo, però bella. manca, ispira caldo, manca solo questi, questi qua e spero che vi è piaciuto questo video. se vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arrivano tutte le novità e soprattutto mi sostenete e sostenete il mio canale e apprezzate il lavoro che faccio. e se avete delle richieste, delle domande, dei video particolari, delle informazioni sono a disposizione, per qualsiasi cosa iscrivetevi e contattatemi su Instagram e Facebook per la gente. alla prossima e che passate una meravigliosa giornata. Ciao a tutti! ho provato i richiesteni, li adoro!